Cari amici, benvenuti a un nuovo incontro nella natura. Oggi parliamo della Morella, o Solanum nigrum, pianta molto importante per i processi infiammatori. Vedete, siamo in autunno, però la natura non cessa di produrre piante interessanti ed utili per la nostra salute. Naturalmente, in autunno, verso l'inverno, troviamo spesso piante venenose. È come se la natura volesse aiutarsi a chiudere un ciclo, a chiudere un ciclo un po' con la morte, sostanzialmente. E, in effetti, qui vediamo questa Morella, questa pianta della famiglia del Solanaceae, della stessa famiglia della Belladonna, che è una pianta che contiene l'atropina. L'atropina deriva il nome dalla parca, dall'atropa. Vedete, ci sono le tre parche che decidono il destino degli uomini. Clotos, che fila la lana. L'Achesis, che decide quanto deve essere lunga la lana della vita dell'uomo. E poi c'è Atropa, che taglia il filo della vita. Quindi, capite bene che quando abbiamo una pianta della stessa famiglia dell'atropa Belladonna, o che contiene l'atropina, è una pianta estremamente venenosa. Però tutto si usa. Tutto si usa in medicina, basta usarlo nella maniera giusta. E quindi, gli impiastri delle foglie di questa pianta, gli impiastri delle frutte di questa pianta, che matureranno altra poco, diventeranno delle bacche nere, sono molto importanti e usati da sempre in medicina per curare le ferite della pelle e per curare le infiammazioni. Dunque, le infiammazioni dolorose, che abbiamo, so, un dolore alla spalla, un dolore al ginocchio e così via, quando c'è il dolore, questa pianta è molto importante come antidolorifico naturale. Questa pianta è una pianta infestante, la trovate dovunque. Si tritano un po' di foglie, di fiori e di bacche e si fa un impiastro antidolorifico, sostanzialmente. Però, attenzione, perché voglio dire, come dico, ogni pianta è terapeutica, però importante è la dose. Ciò che fa il veleno, come diceva Paracelso, è la dose. E quindi, naturalmente, se noi la usiamo in maniera incongrua, questa pianta che ci libera dal dolore e che è stata una delle prime piante usate come anestetico, una volta la facevano gli antichi quando dovevano trapanare un cranio o levare un dente, davano l'atropa, come adesso fa anche il dentista, che inietta l'atropina nella gengiva per non farti sentire il dolore. Anche una volta, no, davano degli impiasti di questa solanum nigra, di questa morella, per il dolore, ok? Se però noi ne abusiamo di questa pianta, è la pianta che può farci venire dei fortissimi mal di testa, una grande sensibilità alla luce e quindi, ovviamente, vanno date le dosi opportune. Quindi, grandi rimedi, grandi interessi, anche in queste piante un po' funeree dell'autunno, non a caso, siamo oggi proprio nel giorno dei morti e parliamo della atropa, che determina la morte, quindi c'è anche un simbolismo della giornata, però possono essere usate, basta usarle con intelligenza e conoscere l'argomento. Se vi è piaciuto questo video, cliccate mi piace, commentate e soprattutto iscrivetevi alla mia rivista Scienza Natura, che è una rivista settimanale in cui si approfondiscono tutte le tematiche della medicina naturale.